Un momento particolare per la formazione bianca-azzurra dopo quello che è accaduto nelle ultime ore tra Zeman e Sebastiani, qual è, anche se dal di fuori il tuo pensiero, il tuo giudizio, su questo momento con tanta tensione in casa Adriatica? Io dal di fuori, sinceramente, ma con tutto il cuore non posso sapere quello che sapete voi, effettivamente. Avrei ascoltato però l'ichiarazione di Sebastiani e di Zeman? Ascoltato, effettivamente sono cose un po' strane perché questi problemi, se ci fossero dei problemi, bisognerebbe risolverli tra di loro. Però, ripeto, io spero che si risolva tutto nel migliore dei modi perché sia Sebastiani che ha una personalità forte, lo stesso Zeman che è un allenatore importante, trovino un punto d'incontro per il bene del Pescara. Secondo te resta però, al di là di tutto, in bilico la posizione del tecnico in questo momento, al di là anche dei risultati del campo? Ma, tu sai benissimo che gli allenatori sono condizionati dei risultati. L'ultima partita l'ha vinta, adesso c'è la partita con l'Ascoli, per cui se dovesse vincere è normale che Zeman possa continuare l'avventura nel Pescara Calcio. Potrebbe essere anche uno stimolo in più la situazione che si è venuta a creare, perché sono situazioni che poi anche i giocatori, in un certo senso, non dico che danno di più, però se hanno effettivamente la voglia di continuare con Zeman, sicuramente faranno una partita alla morte, per cui è anche da vedere sotto questo punto di vista. Grazie. 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 Grazie.